Ciao a tutti ragazzi, oggi un nuovo video sulla nuova collezione della Color Trend che è formata da 4 ombretti in polvere e da 4 rossetti oggi vi farò il disuoce per vedere bene i colori allora partiamo con gli ombretti la confezione in cartone è questa qui guardate che è bellissima dietro è così, vi apro partiamo col colore violet ecco qua, perfetto allora, nella confezione si trova il pennellino piccolino che arriva dentro la sua bustina di plastica e questo qui è l'ombretto in polvere eccolo qui, guardate guardate che bello nella colorazione viola e verdino e qui è l'ombretto che mi è caduto un po' di polvere per terra, va bene assistente, come al solito la nostra bravissima assistente ci porgerà il braccino manina, per farvi gli disuoce allora questo è non vedete ok guardate tac tac violet, sono colori molto tenue, non vi aspettate dei colori accesi o cosa, questo qui è il violet questo qui è il blue bell che avevo mandato prendere e non ho più la scatolina però, questo qui è il fondo assistente assistente sempre il nostro assistente molto collaborativo metta qua la manina lì guardate il blue bell com'è carino anche questo qui è un azzurrino molto molto carino poi pulisci il pennellino assistente, grazie se no non so più proseguiamo con il rose eccolo qua rose sempre il pennellino all'interno eccolo qua perfetto e questo è il rose eccolo qua guardate che bello dopo voi quando va l'iva lo aprite e tac pacciate molto detto spartanamenti il rose intingete il pennellino dentro ecco qui questo è il rose ecco qui e passiamo all'ultimo colore sono colori molto belli estivi delicati e sono sfumabili facilmente sono molto leggeri sembra di non 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 li senti pesanti sull'occhio una volta che ci si trucca questo qui è il fern che è un bellissimo verdino ecco qua solito e ecco oddio possiamo all'aprire aiuta eccoci qui perfetto questo è il fern che è un verde guardate questo è il fern che è un verde vedete che bello il rose blu bell e violet questi quattro bellissimi colori dell'edizione limitata della color trend questo è sempre la bella decorazione che c'è sul tappino qui e ora passiamo alle colorazioni dei quattro rossetti ecco qua allora il packaging è questo qua del quando sono ancora dentro l'involucro questo qui è il gardenia ecco qua spero si veda bene eccoci adesso lo apriamo guardate che bello sempre sul violetto con il disegno sul verdino molto bello estivo gardenia sì ho fatto il giusto sì gardenia assistente ecco qui lo suocciamo gardenia guardate qua che bello sembra quasi un 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 guardate che bello poi molto i rossetti sono molto morbidi leggeri quindi non è una cosa pesante insomma va bene per l'estate il color gerbera eccolo qua il fanta packaging eccolo qui sotto c'è la scritta che non so se riesco a farvi vedere si vede tutto suocato peccato non è giusto assistente prego la mano ecco qua e questo è il gerbera da qua guardate che bel rosso bello rossino scuro guardate poi sembra quasi il colore del mosto questo qui poi abbiamo il colore pueni e questo poemi ok e infine il colore che piace tanto a me è lo sweet pia perché è un colore e infine guardate proprio poi la mia assistente anche la mano brozzata quindi risaltano ancora di più lo sweet pia eccolo qua sweet pia che è questo eccoci qua perfetto poi abbiamo quello che abbiamo fatto il poeni questo qua scusate scusate il poeni che sulla mano sbocciata è questo eccoci qua poi abbiamo gardegna che è stato il primo ed è questo e il gerbera che è questo qua eccoci qua ed è questo ecco qua queste sono le quattro colorazioni del rossetto spero che il video vi possa essere stato d'aiuto io vi lascio un saluto un bacio ciao alla prossima ciao ciao